Io credo che Cassano, un giocatore del Milan, potrà fare molto bene al Milan, però mancano 15 giorni al mercato e quindi da qui alla chiusura del mercato e da qui al 31 agosto vedremo cosa succede. Come tutti i giocatori, sia del Milan che della Viviana Toschino e dell'Inter, quando sono dentro una società, si devono comportare professionisti e devono lavorare per rendere meglio per quella società. Sicuramente è un giocatore eccelso e soprattutto avere la disponibilità da parte sua di stare volentieri qui e di essere convinto a stare qui. Anche perché per Cassano credo che il Milan abbia fatto grandi cose, perché l'anno scorso l'ha guarito, l'ha fatto rientrare, l'ha mandato all'Europeo e quindi credo che il Milan abbia dimostrato tutto l'interesse per poter far rimanere Cassano.